L'app Io per il Cashback supera i download dell'app Immuni, ma allora la salute vale meno di 150 euro? Quanto siamo venali! E la privacy? Dove sono finiti tutti i paladini della privacy che si erano schierati contro Immuni? Ve lo dico io dove sono. Al bar, assieme a tutte le altre invettive da bar che si sono sentite in questi giorni. Se invece di sbraitare per una manciata di like vogliamo capire, ecco tre parole chiave. Benefit, fenomenologia, SWOC. Benefit è il beneficio emotivo, non quello fisico. È la risonanza emotiva, quella che si attacca a un interesse spontaneo e che ci muove ad agire. Fenomenologia è la considerazione del mondo e delle persone a partire da quello che sono e che fanno, non a partire da quello che vorremmo che fossero o che facessero. Si parte dalla realtà per capirla e per farne buon uso. SWOC è l'acronimo di So What? Who Cares? E allora? A chi importa? Chiedetevelo sempre. È la prova del 9 di qualunque comunicazione. Prendiamo il Cashback. È lo Stato che ti rida i soldi. E allora? E allora sono soldi. A chi importa? A tutti quelli che vogliono soldi. La Pimmuni avverte gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio. Così possono isolarsi per evitare il contagio e possono informare il proprio medico per ridurre il rischio di complicanze. E allora? E allora ti dice che potresti essere a rischio. Potresti. E che dovresti applicare i protocolli sanitari. Dovresti. A chi importa? A tutti quelli che hanno capito esattamente come funziona il contagio e come funzionano i protocolli sanitari. In quanti l'hanno capito davvero? Quello di Immuni è un benefit mediato che le persone possono fare proprio solo dopo mediazione delle loro capacità cognitive, emotive e culturali. Quello del Cashback è un beneficio immediato che le persone fanno proprio senza doversi sforzare per capirlo. Per questo motivo ho avuto più successo di pubblico. Per questo motivo è sempre utile considerare benefit, fenomenologia, SWOC. Perché la comunicazione fa bene se la sai fare bene. Parola di Dr. Coppi. Sono Paolo Guglielmoni, docente di advertising, consulente creativo e copywriter d'azione. Il mio metodo creativo è l'unico validato sperimentalmente tramite neuromarketing per potenziare la salute della brand e il suo fattore di conversione. Grazie per essere stati con me. Buone feste!